Mettere al centro la sicurezza di quanti operano nel settore sanitario, lo sottolinea il consigliere regionale Enrico Mazzeo in seguito all'aggressione subita nei giorni scorsi da un medico dell'ospedale di Policoro. Secondo l'esponente politico, quella della sicurezza degli operatori sanitari è una questione che non va trascurata. Tante sono le categorie a rischio violenza, gli operatori del pronto soccorso, le guardie mediche, quanti prestano servizio presso il 118, chi opera nei centri di salute mentale. Per Mazzeo troppo spesso a pagare le conseguenze di alcune disfunzioni organizzative sono gli operatori, essendo a contatto diretto con i cittadini. Per questo è necessario, sottolinea, adottare soluzioni efficaci puntando ad un coordinamento fra i livelli istituzionali, opponendosi alla politica dei risparmi a tutti i costi, che ha portato a tagli in punti strategici come i presidi di vigilanza presso i servizi pubblici, a partire da quelli della sanità.